Le attività dei consorsi, noi le abbiamo racchiuso nella presentazione del consorzio con noi, le abbiamo racchiuso in questa presentazione del rapporto ambientale. Abbiamo svolto un'attività che ha consentito la nascita di qualche centinaio di imprese. Vuol dire aver aiutato l'economia del Paese ad uscire dalla crisi, anche se abbiamo potuto portare ancora pochi mattoni alla costruzione di un nuovo sviluppo, ma qualche migliaio di nuovi occupati, in controtendenza rispetto alla crisi di mercato che abbiamo vissuto in Italia in questi ultimi anni. Facendolo contemporaneamente il bene dell'ambiente e garantendo la tracciabilità di un materiale per garantire la salute dei cittadini. Aver iniziato questa interlocuzione e questa collaborazione anche con i comuni e con le aziende municipalizzate ci può portare a intercettare, per quello che riguarda il conoe, gli oli prodotti dalle famiglie e quindi a dare un maggior impulso sia all'economia sia alla rigenerazione di un materiale che poi ovviamente, andando prevalentemente a costituire il famoso biodiesel, comporterà un ulteriore vantaggio dal punto di vista ambientale per l'azzeramento delle emissioni di CO2 e di gas climalteranti. Abbiamo ancora qualche problema organizzativo per poter intercettare i grassi animali perché sono maggiormente dispersi.